In questo video continuiamo a vedere le definizioni stradali di traffico, nello specifico parliamo delle parti interne ed esterne alla carreggiata poiché molti quiz fanno distinzione fra di esse. Ma prima vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanella per essere sempre avvisati dei nuovi caricamenti. Sul nostro sito lapatentediguida.com potrete trovare tutti i nostri materiali didattici. Sulla nostra pagina Facebook corsi online per tutte le patenti vengono inseriti tutte le novità e se volete iscrivetevi al nostro gruppo Facebook La Patente di Guida. Cominciamo a vedere le parti interne alla carreggiata. L'attraversamento pedonale, costituito da una zebratura di strisce bianche parallela all'asse della strada, consente ai pedoni di attraversare la strada collegando due tratti di marciapiede sui lati opposti o, come vedremo, anche due tratti del passaggio pedonale. Nelle figure, in alto a destra, abbiamo rappresentato le rappresentazioni iconografiche che potreste trovare nei quiz, in modo che ne abbiate una visione diretta. L'attraversamento ciclabile, costituito da due strisce bianche discontinue e parallele, consente l'attraversamento delle biciclette che devono attraversare la carreggiata avendo la precedenza e collega quindi due tratti di pista ciclabile. L'isola di traffico, che separa le correnti di traffico, può essere rialzata dal piano della strada oppure a raso, come quella raffigurata nei quiz, che vediamo in alto a destra. Naturalmente è una parte esclusa al traffico e sulla quale è vietata anche la sosta dei veicoli. Il salvagente è destinato al ricovero dei pedoni, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, oppure di una fermata dei mezzi pubblici, come tram, autobus e filobus. Lo sparti traffico è una struttura posta all'interno della strada che separa le correnti di traffico. Nella figura vediamo che divide la strada in due carreggiate separate e vediamo come nei quiz esso sia rappresentato da una striscia verde continua che separa per l'appunto le carreggiate. Passiamo alle parti esterne alla carreggiata. Il marciapiede è una parte opportunamente delimitata, riservata ai pedoni, normalmente rialzato dal piano della strada. Su di esso possono sostare i veicoli, sono nel caso in cui siano dipinti gli stali di sosta, cioè le strisce di parcheggio. Nei piccoli centri abitati, spesso al posto del marciapiede, troveremo il passaggio pedonale, che può essere delimitato da una striscia bianca continua. La pista ciclabile riservata alla circolazione dei velocipedi, quindi biciclette, tandem e altri veicoli a propulsione muscolare, è delimitata da una striscia gialla, come vediamo nella figura dei quiz in alto a destra. La corsia di sosta d'emergenza, che è naturalmente esterna alla carreggiata e a lato di essa, separata dalla carreggiata da una striscia bianca continua, serve per la sosta di emergenza dei veicoli, per esempio la troviamo sulle autostrade o sulle strade estrarumane principali. La banchina è una parte esterna alla carreggiata, normalmente non pavimentata, quindi sterrata, può anche essere pavimentata, non è riservata specificamente dal codice della strada ad alcun utente della strada, tuttavia può essere in caso di emergenza, quando non pericolosa o franabile, utilizzata appunto per la sosta di emergenza. La piazzola di sosta è un'area esterna alla carreggiata destinata alla sosta dei veicoli, mentre il parcheggio è sempre un'area esterna alla carreggiata destinata al parcheggio dei veicoli. Grazie.